Andiamo a spiegare quello che oggi faremo. Il titolo che abbiamo dato a questa speciale non è nato a caso e si torna a volare, volare per distaccarsi dalla realtà, lontano da questa situazione un po' che ci opprime. E quindi durante questa lezione che abbiamo costruito io e Giovanna dovete ritrovare milioni di emozioni. Come dice Tiziana, come ha detto lei, è un fartlek, ma siamo liberi. Vedo che pedalate tutti quanti da un po', per cui se volete farlo diventare qualcos'altro, qualcosa di più impegnativo, qualcosa in cui oggi magari vi sentite di dare qualcosa in più, noi siamo qui per questo. Facciamo un grosissimo applauso per Gabriele Cestra, il nostro master trainer che... è una power, quindi un lavoro di forza, ci alterneremo io e Gianluca nella posizione. Un percorso prevalentemente di montagna, di salita. Andremo a gestire io e Gianluca a fasi alterna in questo percorso. Per parte Gianluca, poi riprendo io, diciamo i primi 20 minuti proveremo a portare il cuore tra le 70 e le 75 minuti. Due picchi di intensità, il primo con Gianluca, poi recupereremo un po' sempre salendo e riporteremo il cuore suo per prenderci la vita di noi. Mi raccomando, ragazzi, allora sapete, vi ho già spiegato tutto, sapete cosa dovete fare, un'unica cosa che dobbiamo fare adesso è divertirci. Grazie. 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 Grazie.